La Settimana Santa inizia con le due madonne, sono due quadri molto belli del Seicento, istoriati con delle pregevoli corone d'argento che vengono portate in processione il martedì e il mercoledì. Quest'anno addirittura si è rinnovato un rito molto antico, i ceti che sono il ceto dei fruttivendoli e il ceto dei massari si scambiano il cero, questo scambio del cero che negli ultimi anni non c'era stato per diatribe interne alle maestranze, quest'anno dopo i buoni uffici sia da parte dell'autorità civile che di quell'ecclesiastica, si è svolto questo rito, quindi con buona pace di quanti magari nelle maestranze non credevano a questa pace, la pace si è fatta. La città penso che sia soddisfatta di questo perché è proprio in questi riti popolari che si vede nel ventremolle dei ceti, che si vede il pathos dei misteri. Questa sera, questa sera qui dentro si vive una atmosfera surreale, la sabbia per terra per evitare che la polvere salga e che impedisca a chi lavora sui gruppi di lavorare in mezzo alla polvere, questa atmosfera che sa tanto di rinascimento, un'officina proprio, gli argenti, lo stesso calore umano che emanano i gruppi, vedere i misteri che per un anno intero sono stati spogli, vederli con questi fiori, con questi addobbi, con questi argenti, tutti gli argenti sono tutti marchiati e sono marchiati del marchio di Trapani, drepano un ucività simbichettissima, queste arti, queste cose che si tramandano di padre in figlio, una cosa molto bella è rivedere i ceti che prima magari erano un po' disgregati, ora sono più coesi, forse perché questa città sta cambiando e forse sta cambiando anche la mentalità dei trapanesi, prima non si faceva gruppo, ora si è capito che non facendo gruppo si perde, forse si è abusato magari del termine di trapanesità, però la trapanesità è anche questo, essere stanchi come lo sono io adesso e parlare dei misteri, perché? Perché i misteri sono in fondo noi stessi, sono le generazioni successive alla nostra che hanno l'obbligo e il dovere di portarlo avanti, questo gruppo per esempio non appartiene più alla mia famiglia perché indubbiamente io non faccio l'ortolano, le mie figlie non lo fanno, però se lei dice alle mie figlie qual è il tuo gruppo, loro si identificano in questo gruppo, perché? Perché mio padre lo era, mio nonno lo era e le radici loro se lo portano dentro, ma questo per tutti, perché andare a trovare le professioni, le arti ormai non esiste più e allora che cosa esiste? Esiste il credere a queste cose, a questi valori, a queste radici che fanno parte della nostra storia e della cosiddetta trapanesità. Io sono Antonio Culcasi, sono il figlio del capo console attuale da circa 50 anni a questa parte, come diceva Vito Santoro, il mio collaboratore console, noi chiamato console, fra noi si chiamavano tutti i consigli, è una generazione che va da padre e un figlio, l'abbiamo nel nostro DNA ed è difficile allontanarci da questa passione nei confronti di questa processione. Io ho un'attività commerciale, oggi è chiusa, domani è chiusa, pensi tu e quindi siamo qua a fare dei sacrifici per il nostro Signore. C'è Nicola qua presente che io spero che lui faccia la stessa cosa che me, è vero papà? Nicola stamattina è venuto a mio letto e ha detto papà devo andare a mettere la corona a Gesù, guarda, e io questo desiderio l'ho fatto passare, che spero che io trasmetterei questa cosa a lui. Qua c'è il mistero più sexo, il mistero più sexo, perché ci sono i simboli sensuali, questi simboli sensuali voi li potete prendere nel mistero dei fornai, il simbolo sessuale perché c'è un po' una leggenda che i portatori anticamente si portavano queste pare nelle forcine e quindi si ubbiagavano e quindi si dondolavano, quindi la cosiddetta annacata secondo questa leggenda proviene dall'ubbiagatura del che non è vero niente. Invece è la metafora della vita, è la metafora dell'atto amoroso, da questo atto amoroso cosa nasce? La vita, è la Pasqua, è la resurrezione e questa è questa processione, altro non è che la vittoria, è la resurrezione della regione del popolo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Poi che c'è in avanti, lì lo poca avanti, poca avanti. Bene, non si stava dire. Arquettate lui. No, no, non si stava dire. Sì, damocci una... Sistematica. Grazie. Ma questo, non si stava dire. Le rivocazioni della settimana santa sono un momento importante, ma per la città di Trapani in particolare costituiscono il momento principale dell'anno, perché attraverso le corporazioni che hanno in affidamento i singoli gruppi e tutta la città si ritrova in questa straordinaria manifestazione. Diciamo che è un po' la stratigrafia sociale della città che si riconosce in questa manifestazione e quindi è comprensibile anche un po' di emulazione che si crea tra le varie corporazioni nel fare la processione più bella, nell'avere la banda musicale che suoni meglio. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione perché sono molte scritte proprio per questa occasione, da musicisti locali e anche da altri musicisti. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione. Mistero è ciò che l'uomo non riesce a spiegare. Misteri erano dette già nel secolo XII, le scene animate dell'Antico e Nuovo Testamento, quasi ad accrescerne la tensione mistica. Questi riti erano già conosciuti presso Genova, mutuati dalla Spagna grazie agli scambi commerciali. Qui, nella seconda metà del secolo XIII, la confraternita dei disciplinanti si riuniva per pregare in grandi case, dette casazze, prima di partecipare alle sacre rappresentazioni. I traffici tra la città Ligure ed i porti isolani ne favorirono poi il diffondersi in Sicilia. Musica Grazie a tutti. 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 Non è possibile datare con certezza l'anno d'inizio dei riti dei misteri. Grazie a tutti. Di certo, la scesa al Calvario è il primo degli originari sei gruppi ad essere affidato, secondo un atto notarino, un atto notarino, un atto notarino, un atto notarino, un atto notarile del 6 aprile 1612 alle maestranze, nate nel XII secolo in qualità da associazioni spontanee. Grazie a tutti. 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 A tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.